Il ventenne Pietro Riva ha vinto la quarta edizione della mezza maratona di Treviso chiudendo in un'ora 4 minuti e 55 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Paolo Zanatta, trevigiano di Volpago di Montello, con un tempo di un'ora 6 minuti e 6 secondi. Miglior donna, come da pronostico, la keniana Viola Kebgeno, giunta sul nuovo treguardo del viale Bartolomeo d'Alvino ai piedi delle Mura in un'ora 13 minuti e 50 secondi. La quarta edizione della mezza maratona di Treviso, organizzata da Salvatore Vettiol, ha visto un nuovo record di iscritti, 2270, il 6% in più rispetto l'anno precedente. A dimostrazione della qualità di organizzazione e della manifestazione in generale.